Ancora una volta un'esperienza positiva nell'ospitare e nel collaborare con degli studenti che fanno scuola-lavoro. Sono studenti di Bercetto o legati particolarmente a Bercetto come Mirian Fontana, o altrimenti come Matteo Brusini o Cerdelli Alessio. Secondo il ramo di scuola hanno sviluppato un settore in comune. Abbiamo cercato, anche se ha fatica, di non fargli fare della manovalanza, delle fotocopie, ma di cercare di capire cos'è l'attività amministrativa. Devo dire come sindaco che ho avuto particolare soddisfazione. Non sono dei bamboccioni e ci hanno potuto aiutare nei loro settori, quindi li ricordo molto volentieri. Mirian Fontana, Matteo Brusini e Cerdelli Alessio.